Inizia oggi da Villa Vallero un nuovo progetto di Area Creativa 42. Sì, Art Beats è un progetto realizzato dai giovani soci volontari di Area Creativa che vuole proporre piccole conversazioni sull'arte contemporanea legate alle mostre che vengono realizzate oppure ad eventi che ci potranno essere sul territorio piemontese. Art Beats vuole avvicinarsi all'arte a piccole dosi, a pillole in modo che sia accessibile a chiunque abbia delle curiosità, non è necessario un approfondimento particolare però intanto è un inizio. I giovani relatori sono studenti oppure neolaureati della facoltà di Torino, delle facoltà universitarie torinesi che propongono le loro tesine oppure degli argomenti di particolare loro interesse. Quindi si terrà di volta in volta un appuntamento per ogni mostra che verrà organizzata? Sì, organizzeremo adesso a gennaio il calendario del primo semestre del 2019 così si potrà avere una certa continuità e anche il pubblico saprà, insomma, si segnerà questo appuntamento nell'agenda. Intanto ricordiamo la mostra De Natura qui a Villa Vallero fino al? Fino al 16 dicembre e domenica pomeriggio lo annunceremo ancora, ci sarà un piccolo concertino alle 17 di Natale per festeggiare insieme il Natale e chiudere in occasione del finissage della mostra.